benvenuti in questa villa schiera con una piacevole e moderna architettura situata nel quartiere residenziale del comune di concorezzo in via sauro è una casa davvero bella le proporzioni dei vari ambienti sono assolutamente perfette e garantiscono un ottimo comfort abitativo villa è stata costruita nel 2011 le murature esterne divisorie sono ad alte elevate prestazioni isolanti e termoacustiche la qualità impiantistica un avanzato sistema per garantire il controllo dei processi di sicurezza e la gestione del risparmio energetico classe energetica b il giardino si sviluppa sul lato della casa 20 metri quadri la metratura è contenuta ma sufficiente a creare una rilassante cornice verde di facile gestione ideale per famiglie con animali domestici e bambini entrando in casa siamo accorti nel soggiorno cucina è abitabile piano primo due camere da letto una con bagno in camera e cabina armadio e secondo bagno di servizio piano secondo stupendo locale open space ma sardato con terrazzo ideale come locale hobby studio palestra per famiglie numerose perfetta come terza camera da letto il terrazzo una bella visuola aperta adeguato come solarium ottima privacy lo spazio è un concetto molto importante quando si parla di casa per questo che siamo certi che apprezzerà la taverna un utile ambiente per ricevere amici da vivere a sala cinema oppure perfili grandi che hanno bisogno della propria indipendenza un altro dettaglio che contribuisce al comfort di questa villa e la presenza piano interrato del garage doppio triplo automatizzato di 35 metri quadri collegato con la casa ci contatti ora tramite telefono whatsapp numero 0 3 9 6 9 0 8 1 3 7